salve a tutti ragazzi e ragazze oggi voglio farvi vedere come potete uscire una stoffa che è quella plastificata per le tovaglie utilizzando il piedino quello in teflon e lago per per cucire la pelle allora il piedino e questo qui in plastica quello che ho già fatto vedere vi metterò nelle informazioni in video e lago invece è un semplice ago da da pelle mi sembra 90 quindi un ago insomma normale per cucire però la pelle dovete chiedere proprio quello della pelle vi faccio vedere che potrete cucire con questo sistema quattro strati di questo materiale che comunque un materiale plastico ed è quindi molto duro allora ho piegato prima a metà e poi di nuovo a metà i due i due lati del del manico della mia borsa e ecco qui guardate cuce perfettamente senza nessuna fatica guardate io lascio anche la stoffa poi la riprendo perché mi serve non dare dritta e l'unica cosa l'unica accortezza che vi voglio dare di non mettere gli spilli per fermare questo tipo di materiale ma metterci delle delle clips qualcosa insomma che comunque non fuori il materiale plastico perché rimangono i segni una volta che ho cucito un lato ora ribatto anche l'altro quindi adesso state vedendo che sto cucendo ben quattro strati di questo materiale che poi conoscete benissimo perché quello delle trovaglie plastificate che si mettono sui tavoli ecco qui una volta che ho cucito il manico lo andò l'andrò a cucire sulla borsa quindi avremo quattro strati più uno guardate la cucitura è perfetta cucitura perfetta i punti sono tutti regolari e abbiamo come avete visto quattro strati ora andremo a puntare la il manico sulla borsa io adesso vi faccio vedere che sto mettendo il manico a 15 centimetri dalla borsa lo andrò lo stesso a fermare con le clip farò questo lavoro su un lato e sull'altro vi farò vedere soltanto una l'attaccatura di una borsa solo per farvi vedere comunque l'ago cucirà ben cinque strati e la mia macchina è una silver crest quella comprata alla leader quindi non è una macchina super tecnologica o quello che sia che insomma possono possa avere delle capacità particolari no una macchina semplicissima quindi con il piedino teflon e l'ago per il per cucire la pelle potrete fare tranquillamente cuciture di questo genere ecco qui adesso ho fermato il manico in tutte e due da tutte e due le parti e andrò a adesso tolgo dalla macchina il per renderla con il braccio libero in modo tale da poter inserire ovviamente la borsa ecco qui per cucire i manici non basterà fare una cucitura tipo una una croce che va da un lato all'altro del dell'ultima parte quella che è attaccata la borsa stessa servirà per dare più forza che fare in modo che non si stacchino i manici con con semplicità quindi farò la prima cucitura verrà fatta in maniera orizzontale alla borsa e arriverà da una cucitura all'altra guardate la macchina come cucirà in maniera veramente molto semplice guardate cioè riesce a bucare sei strati di di stoffa perché prima avevo detto cinque ma in effetti il bordo è ripiegato e quindi sono sei ben sei strati arrivate sull'altra cucitura giriamo la borsa in modo tale da da fare una linea obliqua ora sicuramente metterò anche le mani davanti perché devo girarla quindi puntate l'ago lo puntate e vi portate con il piedino ad andare verso il il lato opposto però in maniera obliqua è più facile quello che lo vedete che quello che sto dicendo che sembra che mi sono un po' incartata ma è così facciamo il lato obliqua comunque guardate la macchina cucia in maniera veramente tranquilla non ci sono problemi particolari arrivati al sulla cucitura giriamo facciamo il lato sempre parallelo al bordo della borsa e poi saliamo facendo l'altra linea obliqua quindi verrà un quadrato con una croce centrale questo serve proprio apposta ragazzi scusatemi di questo il passaggio della stoffa ma non posso fare altrimenti serve per rafforzare ovviamente la cucitura dei manici di qualunque borsa quindi vedete io punto sempre l'ago lo lascio in modo tale che mi fa da perno e gira intorno ecco qui adesso il mio manico è perfettamente cucito ovviamente per per non mettere le mani davanti non sono arrivata proprio al bordo ma non importa l'importante è fare questa croce doveva arrivare fino all'altro bordo ma non non ci sono riuscita perché a favore della videocamera purtroppo succedono queste cose quindi ecco vedete manca quel pezzettino ma che poi cucirò dopo e ora andrò a cucire gli altri manici io mi auguro che vi sia stato utile e al prossimo video ciao a tutti ragazzi e ragazze